Ma bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio video, io sono Francesco Dallepiccolo e oggi giocheremo a Robo Assalto Allora, iniziamo provando la prima partita con Bo Allora, ragazzi, Robo Assalto è una modalità che c'è ogni settimana Un evento che c'è ogni settimana, come per esempio Ride o Assalto del Super City Che praticamente ci sono varie ondate in cui arrivano dei robot e voi dovete riuscire a distruggerli C'è un tempo e questa cassaforte non deve essere distrutta Se voi riuscite a non far distruggere la cassaforte dai robot avete vinto Mentre se la distruggono avete perso, si vincono dei gettoni Secondo me i brawler migliori sono Bo, che col suo gadget può aiutare a far caricare la ulti Dopo, buono pure Shelly E il primo Bull pure E Iris, sono questi qui Un consiglio che vi do ragazzi, oltre a distruggete questo boss che vi darà un sacco di problemi E' di non distruggere i vostri muretti Perché vi possono aiutare molto Per esempio Dei muretti possono fare fare il giro al boss e quindi voi potete fare più danno e magari evitare Che i robotini vi facciano danno alla cassa Qui ci sono i robotini rossi che sono veramente forti Si sta scaricando Un attimo il telefono Aspettate un attimo ragazzi che lo metto sotto carica Peccato, abbiamo perso Per 14 secondi Ora ragazzi, provo a cambiare brawler E stavolta metto Bull Che è veramente forte Allora Qui intanto ci fa la schermata Dopo, come brawler forti Ci sono pure Pam Che può curare Pocio non particolarmente Ragazzi Io mi sto conservando delle ricompense Perché quando finirà la stagione O verso ottobre Le apriremo tutte insieme in un video Allora Qui ci sono dei robotini Che possono darmi fastidio Ma ragazzi Ci vediamo Quando arriva il robot gigante Ragazzi Sta arrivando il robotone gigante E mi raccomando I robot giganti Sono Dei grossi nemici Che dovete Distruggere tutti i conti assieme In questo caso Non lo trovo Forse è sotto Ecco Io utilizzo la ulti Utilizzo il gadget Così mi curo E ci vedo lì sopra Dannazione mi sa che ce l'hanno distrutta Esatto Peccato ragazzi Ci vediamo alla prossima partita Ragazzi Un brawler pure buono Può essere inita Che utilizzando Sì la star power Che il gadget Può dare dei problemi Al robot Principalmente al robot grande Io ho messo Il primo gadget Del primo Così al robot gigante Potremmo Farlo allontanare Allora Qui c'è Nostri alleati Sono colti Con la star power E un'unità senza Ragazzi Ci vediamo Quando arriva Il robot enorme Così vediamo Se il gadget Riesce a fare qualcosa Ragazzi Sta arrivando Il robotone Ecco È là sotto Dannazione Ci sono problemi Di connessione Io ci salto Di sopra Dobbiamo Fatto volare Lo stiamo Massacrando Dannazione Sbagliate a fare Saltare Sul robot Qui iniziano Ad arrivare I robot Potenti Che ci daranno Molto fastidio Soprattutto Quelli rossi Però Sembra che Ce la stiamo Vincendo No Ragazzi Abbiamo perso Ragazzi Ora facciamo L'ultima partita Stavolta Proviamola Con Nita Che col gadget E con la star power La seconda Mi pare che sia Un corso di sberle Può dare Tantissimo fastidio Al robot Al robot enorme Io Vediamo Cosa ci sono Amici Allora I nostri alliati Sono una Ems E uno al primo E io Utilizzo La cara Nita Ammazzo Questo robot Allora Allora Alla prossima Andata C'è il boss quindi devo prepararmi una ulti ecco qui infatti adesso c'è il boss spero di caricarmi la ulti così col gadget ci dà un sacco di fastidio ecco allora il boss l'abbiamo ammazzato praticamente infatti ammazzato però abbiamo perso lo stesso beh ragazzi direi che il video di oggi finisce qui io vi invito a mettere mi piace il video ad iscrivervi al canale e ad entrare nel nostro club io piccolo c'è il link qui in descrizione del club detto questo ciao a tutti ciao ci vediamo in un prossimo video